A dieci giorni dall'accorteo di protesta dei migranti per le strade di San Ferdinando diventa evidente l'accelerazione inferta dagli enti per arrivare alla costruzione di una nuova tendopoli. Nel municipio del piccolo centro dell'area portuale è stata predisposta una dettagliatissima bossa di progetto per la gestione della futura struttura che, nelle intenzioni della prefettura che l'aveva prefigurata in un protocollo che risale al febbraio dello scorso anno, dovrà risolvere l'attuale emergenza umanitaria e di ordine pubblico. Top secret per il momento i contenuti della pianificazione decisa dal sindaco André Tripodi che in queste ore in una serie di incontri operativi ha concordato le linee generali dell'intervento assieme ai delegati del prefetto Michele Di Bari. L'obiettivo è quello di evitare i costosi interventi tampone di questi anni per la manutenzione e anche le altissime spese per le reti idriche dell'acqua che sfiorano i 200.000 euro. La prefettura che in queste ore ha ricevuto il documento elaborato dagli uffici sanferdinandesi nei giorni scorsi ha fatto leva sugli enti firmatari del protocollo come ha confermato nella puntata di mercoledì dei fatti in diretta Nino Castorina. Un intervento che va organizzato dalla città metropolitana, dai comuni, dalla prefettura e dal ministero dell'interno e dalle tante associazioni di volontariato per risolvere uno dei problemi che oggettivamente riguarda l'intera regione. Proprio Castorina, consigliere della città metropolitana per i temi dell'immigrazione, sarà domani a San Ferdinando per il suo primo sopralluogo nella Tendopoli. Agostino Bantano per la CNews24.